Il Papa quando ha saputo che la nostra diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, è la prima in Italia che gli ha preso in parola di far arrivare almeno il testo del Vangelo a tutti, ci ha scritto una bella letterina che abbiamo pubblicato in prima pagina. 50.000 copie del Vangelo edizioni paoline che le famiglie arettine della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro riceveranno in regalo nell'anno giubilare della misericordia. Ecco la prima bella notizia annunciata dall'arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana nel consueto incontro con i giornalisti in occasione di San Francesco di Sal, patrono degli operatori della comunicazione. E poi tante altre novità tra cui il progetto Policoro per il lavoro dei giovani, un festival nazionale della comunicazione e notizia delle notizie, l'ingresso gratuito nella Basilica di San Francesco non solo nell'anno giubilare per coloro che non accederanno alla Cappella Bacci. La soluzione sarà sempre di aprire la chiesa, non nell'anno giubilare, sempre sarà. Ora, le forme con cui noi siamo pacta sunt servanda, c'è stata una convenzione, c'è una cosa, bisogna dare vie diverse, cioè i turisti e i fedeli entrano, chiunque deve poter entrare. Il Vescovo torna anche sul tema della chiesa agli archi, un progetto per ora in stand-by, ma non del tutto tramontato. È un progetto che è stato presentato alle legittime autorità, lì sta. E poi i temi della cronaca, ai quali comunque l'arcivescovo non si sottrae, partendo innanzitutto da Banca Etruria. La grande maggioranza è di gente semplice, povera, che si è fidata di che cosa gli veniva proposto da gente in genere per bene, perché non è che dobbiamo sparare su tutta la macchina di Banca Etruria, per favore. Mi sono commosso quando ho saputo che è stato assunto uno psicologo, perché c'è gente che ci va in crisi materialmente su queste cose. L'altro grande tema della cronaca, diciamo, a retina e non solo, è quello ovviamente del processo a carico di padre Graziano, padre Graziano Alabi, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia. L'arcivescovo Riccardo Fontana ci risponde così. Sta in galera da otto mesi, senza un pezzo di prova e anche bisogna dire che i giudici hanno decretato gli arresti domiciliari, ma la Repubblica dice che non trova il braccialetto, che so io, non so che non trova. Dice la messa tutte le mattine, con molta devozione, passa ore con la Bibbia in mano, è sempre pronto ad ascoltare gli altri detenuti e ha sedato scontri che ci sono stati all'interno perché ha autorevolezza di sacerdote. Speriamo che presto è bene il processo. Invece non mi risulta di essere tra i testimoni, a me non me l'ha comunicato nessuno. Mentre tutti avete scritto che ero chiamato a testimoni. Non è arrivata alcuna citazione. Grazie a tutti.